Musica Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale Sono JoePa17 e oggi siamo tornati su Lego Marvel Super Heroes per un nuovissimo episodio Perfetto ragazzi, nello scorso episodio abbiamo catturato il Dottor Octobus Con Spider-Man, Captain America e Mr. Fantastic Però purtroppo non siamo riusciti a recuperare il mattoncino dell'infinito perché è finito nelle mani di Goblin Oggi sono qui insieme Occhio di Falco e Vedova Nera perché dobbiamo proseguire la nostra avventura su questo videogame Va bene ragazzi, eccoci qua Abbiamo raggiunto la Oscorp, c'è anche Spider-Man Spider-Man è onnipresente In sto gioco Attenzione a Goblin Aia No Occhio di Falco Clint, hai portato dei fiori Allora dobbiamo fermare Goblin Che sta facendo troppo casino Attenzione agli scienziati Scappi eh Urbacchione, scappi eh Perfetto Volevo salire lì sopra ma mi sa che non si può Vabbè Dai, entriamo No, ho sbagliato Allora dobbiamo risolvere questo piccolo enigma Ok Quindi giallo rosso e blu Vai Spidey Ah, Spider-Man salta più in alto Perfetto Buongiorno ragazzi Allora dobbiamo eliminare tutti gli scienziati Grande Mamma mia che male Grande Spidey Allora facciamo che Far piazza pulita Almeno riusciamo a muoverci Bene Poi c'è parecchia roba Qui Vediamo chi è che Può tornarci utile Allora Vedova nera no Spider-Man no Occhio di falco No Direi proprio di no Allora Ok Siamo riusciti a far esplodere quella roba lì Anche perché c'è qualcosa da ricomporre qua Però prima mi sa che dobbiamo tirare queste Una per volta mi sa Sì Una per volta A posto C'è qualcosa da costruire Beh un pannello ci sta Voilà Vedova nera Vieni Vediamo i tre colori Sono blu Giallo Blu No Aspettate Rosso Blu No E allora deve essere rosso Giallo e blu Anzi blu Giallo e rosso Allora procediamo Rapidi rapidi Goblin Goblin sta facendo un casino Sta facendo veramente un casino Loro non possiamo ancora scioglierlo Sì parlando con alcuni di voi Ho scoperto che Ci serviva la mach Un'altra mach Allora vieni goblin C'è uno scienziato gigante qua Dicevo C'è Deadpool Attenzione Se non sbaglio stavamo utilizzando Stavamo utilizzando la max 6 Però ci serviva un'altra armatura Per distruggere anche i cubetti dorati Sennò Avremmo avuto bisogno di ciclope Degli X-Men Arrivo Allora mi sa che Ci dobbiamo arrampicare Bravissimo Spidey Tira giusta leva Sblocchiamo la scala E via Ci serve occhio di falco Però se vedo va nera non si leva Dobbiamo distruggere questo Metallo Ok Allora Ah abbiamo Buttato giù una corda Perfetto No 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 Appena in tempo Appena in tempo Allora Tira giù con la piattaforma Così possiamo passare Ci sta facendo sudare eh Goblin Ci sta facendo sudare Anche sti ragazzi qua Beh ma li abbiamo eliminati Abbastanza in fretta Allora Dirigiamoci verso questa stanza Di sicurezza Tiriamo via Questo portellone E poi Lo facciamo Saltare Via Via Spidey Via Sei proprio in mezzo Oh Vai vedova nera Allora Allora Sistema d'allarme Non c'ha Notati Perfetto L'abbiamo disattivato Quasi Sì L'abbiamo disattivato Apriamo la porta E via Ciao Goblin No attenzione Non penso proprio Goblin Non penso proprio Cosa ci fa Stan Lee Ma non ci credo Attenzione Dobbiamo muoverci Ah mi sa che il motore Per il momento ci sta salvando Ok Qui c'è qualcosa da costruire Vai 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 Via 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 Perfetto Ce l'abbiamo fatta Ah qui possiamo salvare Non mi serve Voglio portare a termine Questo livello Nooo C'è anche Venom Pensate che devo ancora vedere Il film di Venom Alcuni mi hanno detto Che non è male Ad altri è piaciuto molto Ad altri invece Non è piaciuto per niente Ci sta Uh Gli scienziati Posseduti dal mutante In ogni caso Devo comunque ancora vederlo Prima di poter esprimere Un giudizio Mamma mia Scienziati Non dico zombie però Quasi Hanno delle movenze Da zombie Spidey Ok così facciamo primo Sì ho fatto fuori Anche i miei alleati Ma va bene Non mi aspettavo Di beccare Venom Ah di qui non si passa No no Non si passa E allora Procediamo da questa parte Con Occhio di Falco Che deve Rompermi Questi due pezzi metallici Vediamo cosa dobbiamo fare Dobbiamo tirar giù quello Pensavo di dover affrontare Goblin Ma mi sa che dovremmo affrontare Venom No Anche di qua non si passa Mamma mia Mamma mia Ci sono pezzi di simbionte Ovunque Sono caduto giù Allora Ce la facciamo Sì Sto dando un'occhiata Per vedere se c'è roba Extra No 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 Bello il costume nero Ma Direi che non è il caso Ah no Qui ci servirebbe Proprio Venom Ok Ho fatto un po' di casino Mi ha Catturato di nuovo Andiamo sopra va Ciao No Ci serve Vedova nera Aspettate che faccio fuori questi Ragazzi Dai Su forza Facciamo girare questa Colonna Ehi Non ti avevo visto Dai occhio di falco Manchi solo tu all'appello Una freccia lì Una freccia là E ne manca ancora una Perfetto Ah c'è ancora da piazzare questa Vai 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 E non possiamo intervenire Perché ci serve Vedova nera Solo lei può rendersi invisibile Allora Adesso Dovremmo essere in grado di Disattivare il tutto Bravissima Anzi Non abbiamo disattivato niente Abbiamo attivato una scala Che ci permetterà di salire Adesso volete vedere che dobbiamo sfidare Ehm Dobbiamo sfidare Venom e Goblin insieme Ma Posso? Si Ok Andiamo 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 Ok Siamo Tornati su Sai com'è Un simbionte scappato Eccolo No Scappa Spidey Ci sta aspettando Dall'altra parte Di qui non si può passare Allora Fate largo Allora Ci sono Questi da tirar giù Occhio di falco Devi preparare un appiglio Per vedova nera E te pareva Che Venom Non mi lasciava passare Che poi tra Venom e Carnage Peggio Carnage No Perché da quel che ho capito Venom È un anti-eroe Ma Carnage È proprio un cattivo Allora Qui dobbiamo Ricollegare un bel po' Di cose Allora Così dovrebbe funzionare Perfetto Abbiamo riattivato Tutto Guarda come scappa Guarda come scappa Ah no Ok Abbiamo aperto Quella porta Quindi Dobbiamo per forza Passare di lì Qui non c'è niente No Mamma mia Aia Sì sì Si comportano come Degli zombie Attenzione Mamma mia Quanti Via State indietro Ho fatto Una strage Ho fatto una strage Dobbiamo spicciarci Perché Continuano ad arrivare Tanto qua Non posso far niente Posso solo scappare No Mi ha dato la scossa Ok Qui non c'è niente No Non possiamo far niente Ho raccolto Tutte le monetine Necessarie Però per riempire Quella barra E No Mi ha catturato Aia Vorrei capire Come aprire Quella porta Però adesso Ah Ok Un personaggio Qui E un altro Personaggio Dall'altra parte Perfetto Perfetto Adesso possiamo Muoverci Non rimanete indietro Ragazzi Ho fatto Un gran bel casino Ho fatto Un gran Bel casino Cosa Caspita Stiamo costruendo Una lavatrice Eh si Sembrerebbe Una vera e propria Lavatrice Ah no È un subwoofer È vero A Venom Non piacciono I forti rumori Allora Abbiamo raggiunto Un'altra parte Del laboratorio No Mi dimentico Sempre che Questi computer Ci permettono Di salvare Quella Mamma mia Ragazzi Bello La lego Ha creato Un bel effetto Mamma mia Non mi aspettavo Non mi aspettavo Questo Mini filmato Bello 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 Allora Qui dobbiamo Far saltare Un po' Tutto Perfetto Andato E andato Spidey Se uso te Li puoi tirare Insieme Sì Bravissimo Ah Anche il fuoco Gli da fastidio Anche il fuoco Gli da fastidio Perfetto Allora Procediamo Andiamo ad affrontarlo Eccolo Mamma mia È veramente cattivo Allora Allora Dobbiamo trovare un modo Per fermarlo Stanno facendo la Gli sta presentando Tutti quelli che ci stanno Attaccando Dai dai Spidey Ok C'è un po' Un po' di roba Da Costruire Qua Ragazzi Tenetemeli Impegnati Un attimo Bella Una bella Cassa Eccolo 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 Dobbiamo salvare Brock Dobbiamo staccare Il simbionte Da Brock Andiamo 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 Perfetto Bravissimo Cosa Caspita E' sta roba Bravi ragazzi Sì Tenetemelo Impegnato E' davvero Ben fatto Venom E' davvero Ben fatto Ah Perfetto Era una specie Di lanciafiamme No E' scappato Di nuovo Dov'è andato Dov'è andato Ma cos'è Una calamita gigante Ah no No una campana Vai vai che Venom L'abbiamo sconfitto Ah ma goblin Goblin mi sa che è già scappato Con l'elicottero Vai Vai Spidey vai Allora Siamo riusciti a completare Anche questo livello Mi è piaciuto Veramente Tanto Mi è piaciuto Veramente Tanto Venom L'hanno realizzato Veramente Veramente Molto Molto Bene Poi mi è piaciuta La scena Della sua fuga Dal contenitore Rieccoci qua Certo che vedere Hulk Che usa un pc Insomma Dov'è finito? Ah eccolo qua Gli ha portato una Tazza di tè Non ditemi che un caffè Perché è una tazza Così grossa Per il caffè Mi sembra Esagerata Va bene Siamo tornati Alla Stark Tower Quindi nel prossimo episodio Utilizzeremo di nuovo Hulk E Iron Man Eccoli qua Ok Iron Man Mach 6 Va bene ragazzi Come sempre Spero che questo video Vi sia piaciuto Se il video vi è piaciuto Mi raccomando Lasciate un bel mi piace Commentate Condividete Iscrivetevi al canale E ci vediamo In un prossimo episodio Sempre qui Sul Lego Marvel Super Heroes Alla prossima Ragazzi Iscrivetevi al canale